Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, inizia la sua carriera televisiva a Telemonte Carlo, dove esordisce con lo show attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991-1992, al programma sportivo. Qui si gioca con Ossè Altafini, nel quale, svolgendo il ruolo di Valletta, forniva alcune statistiche del campionato di calcio in corso di svolgimento, sullo stesso canale. Dal marzo 1992, prende parte al programma per Ragazzi Amici Mostri, e nella stagione 1992-1993 conduce insieme a Umberto Smaila in Varietà 93. La scomparsa dell'attrice Jane Birkin ha toccato da vicino l'ideatrice di Boomerissima. La conduttrice non è potuta rimanere in disparte ed ha scelto di dare il suo personale addio all'artista, volendo enfatizzare l'importanza che la star ha avuto in termini di libertà nel corso della sua carriera. L'attrice è stata ritrovata senza vita all'età di 76 anni nella sua abitazione a Parigi. Nata a Londra, il suo è stato un contributo importante nel mondo dello spettacolo e la Marcuzzi ha voluto porre l'accento sulla sua figura che ha regalato un senso di libertà e bellezza al naturale a tutte le donne. Per la conduttrice romana è scomparsa una vera e propria icona del mondo dello spettacolo che ha voluto salutare con commozione. Tu mi davi il senso di libertà che io inseguo sempre, la leggerezza e la libertà intesa come consapevolezza di non avere bisogno di piacere ed essere accettati per forza da tutti. Ha ammesso. Le sue parole sono state considerate toccanti da molti, soprattutto in quanto la showgirl è stata una delle prime fan di Jane Birkin.